oggi facciamo dei giochi chi è che vuole fare dei giochi? io 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 presente presente quale gioco possiamo fare? aspetta giochiamo a un due tre stella o a nascondino o a chi mangia più frittelle oppure a chi scoppia più palloncini sentite anche voi questo odore? strano forse forse ah giusto le salsicce sul fuoco ciao No Ciao a tutti Tu come ti chiami? Federica Tu sei? Elena E io sono Vittorio E insieme siamo la VittoFamily Che gioco vuoi fare tu Federica? Non lo so Nascondino no No La casa è piena di mostri Vogliamo giocare con 3 stella? Sì Si fa volare Come si fa volare? Giochiamo a Di Florislava Sì Però prima che andate di là Dovete stare attenti Perché ho sentito dei rumori Provenire dal bagno No Allora io non ci fai Come non ci fai? Sarà un secondo bagno Andiamo Questo è il primo bagno Ok Io con il secondo bagno E questo è il secondo E dietro questa porta qua Che cosa c'è? Guarda se n'è scappata Elena dove sei scappata? C'è la lavatrice e il mustro C'è la lavatrice e il mustro Che ha paura dei mostri? Tu hai paura? Un pochettino Anche un pochettino Perché li stai nascondendo Andiamo a giocare con 3 stella In fila indiana Venite Non ci sono mostri qui Non ci sono mostri Ciao Ciao Vedi che più altra di me Non posso nascondere A gioco 1 e 3 stella Vediamo Vera schiappa la rossa Chiamiamo Vera La facciamo venire qui Mi lanciamo la rossa E se la prende Vera Ma guarda cosa ho trovato Brava Sei riuscito a trovare Gli ingredienti dello slime Dello scorso episodio Brava No questo l'ho trovato No questo l'ho trovato Quindi li avete trovati insieme Adesso giochiamo a mosca cieca Chi vuole giocare? Prima io Si fa il tocco 1 2 3 Quindi quando è uscito 3 più 2 fa 5 1 2 3 4 e 5 No io sono salva Facciamo che scegli e salva Va bene allora tocca a me 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 e 7 E salva E salva Bene allora tocca a me Vendatemi Non ci vedo Non ci vedo E questo è lo scopo C'è il naso schiacciato Buongiorno Buongiorno Non si esce dal salone Ok va bene Sento dei rumori Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove vi sento? Non sento ne Ho sentito la porta Dove siete? Non vedo nessuno Dove siete? Siete qua? No Questa non è Federica No Questa è Dove? Sento le voci Siete qua Sento le voci Sento le voci Sento le voci Dove siete? Sento la vostra voce Dove siete? Sento la vostra voce Io non le sento Siete sotto al tavolo Ma di cameretta No Non siete in cameretta Perché io vi sento qui Dove Sento la controllo qua Dove siete? Presa Toccatele Gira 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 Ecco fa Perché se no vomita Ecco Ma non vale Federica sta dietro di te Toccala No 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 Elena ha vinto VittoFamily Elena è bravissima Come vorrei essere come lei Eia Ma sento ancora Quello strano Odore No Stamattina mi sono lavato Quindi C'è qualcosa Che è buro di qua Qui non c'è niente Eppure mi è sembrato di sentire Un rumore Che proveniva da qui Ok Giociamo 1,2,3 stella 1,2,3 stella Ok vado Gioco 1,2,3 Stella Allora Allora Oh è brava lei Lei sta ferma Tu invece ti chiami Pasquale Va bene Pasquala Ci vediamo dopo Sento ridere Sento ridere Va bene 1,2,3 stella Che stai mangiando Che stai mangiando L'aria Mi ammo Mi ammo Sta così Tu invece stai Che ti fai domani le guagge Mi fai così Ho sentito il rumore Non ce ne giuro 1,2,3 stella 1,2,3 stella Ha vinto Brava Elena Elena ha vinto Tutte quattro le gare Bravissima Perché ci sono i mostri Ragazze Avete sentito il rumore Sì E io quindi Non ci vado più Cosa sembrava Ma come L'hai sentito Così Apriamo la porta E vediamo se c'è qualcosa Chi è che l'apre Vado in Beh tu Ciao Vado a me la telecomana Ciao No Vera dove vai Dove vai No Non mi chiudete qua fuori Non mi chiudete qua fuori Ehi Fatemi entrare Ho paura di stare qua Ho sentito dei rumori Prima che provenivano Da di là Chi è che ha fatto questo rumore Elena Federica Siete voi Vitto family Ho paura Magari No No I mostri Non ci sono Non ci sono Nel clown Nella strega L'abbiamo tutti quanti sconfitti Quindi Andiamo a divertirci Fatevi entrare Mi prego Fatevi entrare Ho paura Ci potrebbe essere il lupo C'è il lupo Fatemi entrare Presso Chiudimi Presso Presto Chiudete Chiudete Sto scherzando non c'è nulla Se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della VittoFamily Dovete avere assolutamente le magliette ufficiali Per avere la maglietta ufficiale della VittoFamily con l'autografo di Vittorio Basta andare su vittorioloffredo.it E la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra E diventerete dei veri e propri membri della VittoFamily Vittorioloffredo.it Vi aspetto lì Ciao Ciao